Domenica 15 ottobre è stata inaugurata la scultura del vento, mostra personale del maestro Carlo Bagliana presso la casa del musichiere di Moriago della Battaglia. Oggi è un gran giorno per Moriago della Battaglia e come hai detto per la cultura. Oggi in questa splendida location del musichiere inauguriamo il Festival della Cultura 2017-2018 e abbiamo l'onore di ospitare un grande maestro della scultura Carlo Bagliana e il critico sgarbi. Dovete sapere che per l'occasione, giusto sindaco, il maestro Carlo Bagliana ha realizzato qualcosa che non aveva mai fatto in precedenza, ossia una installazione in tutto il territorio comunale. Certo, sarà una mostra molto particolare ed invito tutti a venire a vederla. Ci sono ben otto statue collocate lungo via Roma e via Manzoni. Una ce l'abbiamo qui alle nostre spalle, che è la donna emigrante, installata questa nel 1990. quindi la mostra avrà un suo percorso lungo via Roma, in più all'interno della Casa del Musichiere. Buongiorno a tutti, siamo qui oggi per inaugurare la seconda edizione del Festival della Cultura. Siamo partiti l'anno scorso con tante paure, tanti dubbi, tanta perplessità. Durante l'anno abbiamo visto le persone che cominciavano a avvicinarsi a questo luogo sempre di più e sempre con più curiosità e più interesse. Credo che questa per noi sia la più grande soddisfazione, aver portato la cultura, cultura sotto tutti i punti di vista, perché come potete vedere dal calendario è un calendario appunto ricco di eventi dedicati alle varie fasce d'età e soprattutto ai vari interessi. Si spazia da arte, musica, storia, storia. Soprattutto la storia quest'anno avrà un ruolo importante in occasione del centenario del primo conflitto mondiale. Vorrei ringraziare innanzitutto il sindaco Giuseppe Tonello perché mi ha dato questa possibilità di esporre in questo stupendo recupero del musichiere. Perché io quando avevo 15 anni, 17 anni, venivo qui, che c'era l'osteria, l'osteria del musichiere, e venivo qui con Carlo Conte che era un vostro compaesano, un vostro cittadino, che faceva lo scultore. Io ho imparato da lui all'età di 12, 13 anni come poter modellare e fare il volto di un bambino o un nudo di donna. Lui era un grande specialista. Quest'anno partiremo con vari corsi pratici. Uno di questi sarà il corso di finger food tenuto dallo chef Alessandro Bianchin e appunto durante il periodo della mostra che riguarda il centenario saranno fatte quattro serate. Verrà chiamato l'appuntamento del giovedì. All'interno di queste serate si assaggeranno delle ricette, dei menù tratti da ricettari del primo conflitto mondiale. Quindi avremo modo di vivere la storia in un modo un po' diverso abbinando il cibo, una serata conviviale, insieme a aneddoti e racconti sul conflitto mondiale. Anche tanto spazio però per i bambini, con storie ma anche racconti teatrali e poi ovviamente temi impegnati quali ad esempio l'importanza del cibo, il tema dell'anoressia e disturbi alimentari. Sì esatto, molto spazio sarà dato anche questo. Ai bambini verrà trattato il tema del bullismo e del cyberbullismo. Argomenti molto attuali purtroppo, dico anche perché queste nuove tecnologie a volte superano le capacità e le possibilità di chi le usa e quindi riteniamo sia un tema molto importante anche per i genitori molto difficile da affrontare soprattutto quando i bambini vengono appunto assorbiti da questa tecnologia e non hanno neanche loro e a volte neanche i genitori perché non li abbiamo neanche noi le capacità per controllarlo. Quindi è un festival davvero per tutti, gratuito e non vi rimane altro che seguire tutti i vari appuntamenti che troverete anche sul sito del Comune. Sul sito del Comune, sul sito di Moriago Racconto appunto questo sito è stato creato dove ci sono varie informazioni sul territorio comunale e su tutti gli eventi. Ricordiamo che quest'anno la Casa dei Musichieri rimarrà sempre il fulcro però gli eventi spazieranno in tutto il territorio comunale. Ringraziamo allora l'assessore alla cultura Paola Pillone e vi aspettiamo a Moriago della Battaglia. Grazie a tutti e buona giornata.